D'altronde qua fanno a prati, io ci metto la faccia, non me la fa sta foto, fatemela fare, fatemela fare per una volta, non trovo mai niente, ecco, a chi dice che non trovo mai niente, questo è il mio messaggio per voi. Cari esploratori, fungaioli, ospiranti tali, che c'è? Qualcosa non va dietro? È vero che queste torri di raffreddamento vengono utilizzate anche nelle centrali nucleari, ma non è questo il caso, avete fatto il referendum, vieno da corretta, più fortuna. Siamo nei pressi di Castelnuovo dei sabbioni e ora però devo andare da una craviglia, torno di là, ma verso Massa sabbioni, radda inchianti, fin da subito devo guardare bene i ciglioni e entrare. Sono già di querce, guardate, e quindi l'occhio ci vuole buono, la gamba sta tutto, ci vuole buona. Come fai a non parlare di questo? Ma dedicherò un video a parte. Questo invece, vedete, sembra riprendere un'altica scultura del Sud America, vi ricordate? E guardate dove ero prima, il lago, la centrale. È uno scenario che sembra Springfield, ma non c'è nulla a che vedere, eh. Non può mancare la cattedrale di Massa sabbioni. Siamo lontanissimi, mi sembra di essere davvero sulle colline di Bacchereto del Monte Albano. Io per la verità ho fatto già un sopralluogo nella zona di Pansano in Chianti, Volpaia. Vi manderò questi video in coda, ero con mio figlio, ho fatto una piccola esplorazione. E ho detto, ma secondo me qua è più buono, perché ci è bevuto anche prima. Anche se già là si vedeva un segnale interessante. Quindi oggi vado sul sicuro, anche se non conosco assolutamente le funglie. Le troverò, se buttate le trovo facili. Esattamente come a Bacchereto, olivi frantoi, è beato vivere qua. Zone bellissime, eh, bellissime, neanche tanto popolate, vedete. Qualche paesino qua è là. Se scappare da città, altro luogo dove considerare di venire. Perché poi c'è anche giù, ci avete i servizi. Firenze non è poi così lontana, eh. E neanche Arezzo. Mi ricordo di essere andato in crisi 15 anni fa qua con la bici a corsa. E stavolta non succederà perché vado qua a vedere una splendida pineta a 470 metri di altitudine, eh. 470 metri di altitudine. Quindi se oggi sono qua inizia a preoccuparmi, eh. Qualcosa ho già visto. Non ci sono cartelli. Ci sono pini e castagne. Quindi è praticamente la situazione ideale che volevo cercare oggi. Perché se va male i pinaioli comunque sono... Qua ce l'ho già superato di quota, ma ce ne saranno altre più avanti. E qua vedete che inizia un castagneto. Molto interessante. Devo andare avanti per questa strada, poi tornerò sulla principale. Ma qua devo andare a fondo, eh. A fondo a vedere i segnali. Allora, notizia buona, notizia brutta. Guardate cosa ho trovato. Io sempre vado a fare indagini. E questi sono pinaiolini. Va bene? Sono pinaiolini, quelli che cercavo. Stappati, staccati da gente incivile. Probabilmente hanno lasciato alcuni che hanno trovati tanti. E qua ce ne sono mangiate le chiocciole. Sembra. Sembra di quello. Quindi non devo fare altro che... Certo ci sono passate magari ieri. O ieri l'altro. Però io devo comunque guardare bene tutta la zona. E ringrazio gli amici che mi hanno fatto centomila segnalazioni. Di zone dove stanno uscendo i forcini. Grazie perché siete veramente generosi. Mi avete detto tutte le località buone. E io per non far disperare nessuno ho trovato una località dove nessuno mi ha detto ad andare. Così. Perché mi andavo così. Seguendo più che altro i dati plurimetrici. E dove tra l'altro non ho fungare. Quindi è il mio un azzardo. Certamente. Ma vedremo se sarà premiato o no. E chi ha occhio vigile si accorge chiaramente. Questo non ha nulla a che vedere con il pinarello. Il pinaiolino. Il Suilus granulatus. E nemmeno questo. Ma anche perché siamo sul castagno. E non ci sono più pini. Sono dall'altra parte. Sull'altro versante che ho detto più nord. Questo è il versante diciamo est. Vedete? Nord-est alla fine. Non è che cambia tanto. C'è questo rio che divide. E laggiù ho visto qualcos'altro. Andiamo a vedere cos'è. E questo è ancora un'altra tipologia di fungo. Che vi mostro in modo che possiate valutarlo. Ma quello vi poteva fregare. Mentre qui non vi frega perché si vede il legno. E notiamo che potrebbe essere un fungo particolarmente cercato. Dai più attenti. E particolari ricercatori. Fungini. Guardate. E mi direte ora. Finalmente. Di cosa si tratta. Io lo so. Anzi penso di saperlo. Ma me lo direte. Voi. Voi. Nei commenti. E amo rilevare. Che si tratta di un bosco fiorito. E anche poco cercato. È davvero un momento raro trovare un bosco così. Fiorito e poco cercato. Ma manca ancora il porcino. E no. Non ho detto il gommino. Ho detto il porcino. No gommino. No gommino. Come mi attendevo. Lo stato della buttata è piuttosto avanzato. E si vede da questo esempio. Ora dire se questo è un porcino la vedo un po' complicata. Certo il gambo non sembra apparire come gambo di porcino. No. No. Questo qui è un. Una boletacea diversa dal porcino. Almeno dall'odore. E pochi metri più avanti troviamo il fratello. Gemello. Guardate. Anche qui stiamo di fronte ad un esemplare di boletacea. Che non è certamente un porcino. Il gambo lo tradisce. E anche possiamo vedere che anche se non vira. È probabilmente un tipo di spugna. Che mi direte di cosa si tratta. Ma me lo direte voi nei commenti come sempre. Perché siete molto in gamba. Io imparo da voi. Il motivo per cui faccio il fungaiolo è anche imparare. Perché io tutto quello che so oggi l'ho imparato ieri da voi. E quello che sapevo 30 anni fa. Fino agli ultimi 5 anni è rimasto più o meno quello. Quindi prendevo galletti, porcini, quelli sicuri. E mi fermavo lì. Non ero sto fungaiolo così raffinato. Penneggiole. Ecco. Quelle lì funghi lì. Che conoscevo e basta. Come tanti. Tanti sono così. E poi sono molto ignoranti. Io da voi invece ho imparato. La cultura. Non la tassonomia magari. Ma la cultura fungaiola. E questo è tutto merito vostro. E seguendo i miei video. Certamente poi dai commenti. Oppure anche dai video successivi. Poi imparo. E so dirvi qualcosa in più. Comunque la presenza dei funghi lì. Mi dice. Occhio qui. Posto buono. Momento buono. Andai via. Rimani qui. Magari sa leggermente di quota. Andai tanto a cercare altri posti. Ci sono due errori che può fare un funghiolo. Il primo è non approfondire. Cioè andare via. Quando si sta creando la situazione. Cioè sta iniziando a vedere. Fuochino. Fuochetto. Ci siamo. Invece devo rimanere. Oppure l'altro è quello di insistere in luoghi dove non c'è assolutamente possibilità di trovare una mazza. Neanche di tamburo. Bene. È venuto il momento di usare i miei superpoteri. Di empatia con le piante. Per provare a chiedergli. Umilmente informazioni. E capire. Come sta la situazione fungina. E si lo sa. E si lo sanno. Ma questa non può rispondermi perché è già passata all'altra dimensione. Guardate. Infatti bello il tronco. Ma le foglie sono dell'altra pianta. E ora vado su e vado a questa pianta che è viva. E chiedo umilmente informazioni. Ho tagliato ovviamente. È stato un momento di grande introspezione. di profonda tranquillità. Ho sentito proprio il silenzio del bosco. E la pianta la cui linfa foliva. E le informazioni che ho ricevuto sono semplici. C'è qualcosa di nuovo e di vecchio. C'è qualcosa che è stato colto. E qualcosa che non è stato colto. Queste le parole enigmatiche dell'oracolo che ho ricevuto. Che consegno a voi per tali e quali. Come ho fatto con il messaggio di 2080. 2080 messaggio al futuro. www.equalismo.it Lo trovate. È gratis. E sapete cosa vi succederà nel futuro. Un altro segnale che ricevo è questa leggera pioggia. Quando c'è questa leggera pioggia. Con cielo quasi sereno. È il segno che io devo trattenermi ancora qua. È come dire. Lo so che il tuo istinto è di andartene. Ma rimane qua coperto. Dove non c'è nulla che ti fa bagnare. Stai qui e così cerchi ancora. Perché qua devi cercare. Qua. E non altrove. Bene. Sono sbocato. Vicino a questo tornante. Vedete. Poi salgo verso il palco di Cavriglia. Il palco di Cavriglia. Che è una storia particolarissima. Anche sofferta. Poi è stato chiuso e smantellato. Recentemente. Andiamo a vedere in che condizioni è. Quando passai l'ultima volta. Trovai i lama a giro. Bellissimo. Lungo la strada. Dicevo. Ma cosa so quelli. Erano lama a giro. Perché c'erano ospitati. Ma credo le avessero liberate. So che era successo. Cose molto interessanti. Te vi parlerò più avanti. Ma ora. Rimaniamo concentrati su funghetti. Anche perché poi. Dedica al parco. E dell'importante. Persona. Qui è stato dedicato al parco. Un giovane. Eroe. Possiamo dire. 19 anni. Le parole hanno un video apposito. Però con testimonianze dirette. Di quel periodo. Che era. Lo sapete. L'estate del 44. Io ho testimoni diretti. Che me l'ho raccontato. Che è successo davvero. In quell'estate. Tremenda. 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 In Toscana specialmente. Per giuste verifiche. Il video arriverà tra un mesetto. Ve lo dico. Prima che. Siate ansiosi. Tra un mesetto. Arriverà questo video. Noi parlerò. Di quel periodo. E userò metà delle parole. Si possano usare. Perché lo sapete. Si può dire. E non si può dire. Comunque. Cercherò anche lì. Come sempre. La verità. Per rendere giustizia. Soprattutto a coloro che. Ci hanno. Perso. La vita. Ecco. Il metro. Il metro. Il mezzo sole. E guardate come piove. Sono salito. A tagliare il tornante. Magari questo è un segnale utile. Ma. Questo qui. Potrebbe durare un po' di più. Di quello di prima. Sta proprio. Cambiando il tempo. In peggio. Ma io che sapete. Sono malfidato. Mi sono attrezzato. Prima. Conoscendo. Quanto sono fallaci. Le previsioni del tempo. E ora. Mi faccio un giro nel bosco. Così. Senza problemi. Riparato. Ancora per un po'. Poi magari smette. Vediamo. Tempo. Inclemente. Comunque. Vedete. C'è ancora scritto. Aria attrezzata naturale. Parco naturale. Ma. Vedrete. Che è stato smantellato. Da qualche anno. Mentre. Sta migliorando il tempo. Spero. Anche oggi. La vettura fungale. È andata un po' così. Ma non è finita. Ancora. Un po' di tempo. Per tentare più avanti. Allora. Il. Ho superato la parte. Del parco di. Cavriglia. Ho fatto il video. Su. Bojanov. Nicolai. Bojanov. E questo. Ve lo vedrete. Tra un mese. Quando veriferò. Tutte le fonti. E poi. Dopo vediamo. Un attimino. Però. Credo di aver già. Chiara la situazione. Dopodiché. Io ora vado a trovare. Dopo questo perceto. Vedete. Un castagneto. Il parco di Cavriglia. Non ve l'ho fatto vedere. Perché pioveva. Era tutto bagnato. Insomma. Comunque. Sono strutture. Che sono abbandonate. Come potete immaginare. Uno zoo. Abbandonato. Più o meno. Peccato. Perché. Poteva essere un luogo. Dove. Meritava. Ecco. Risistemare. Fare una roba. Un pochettino più. Naturale. Gli animali. Con più. Con più spazio. Magari. Puntare. Sulla fauna europea. Ecco. Lì. Voi sapete. Che era portata fauna. Tra l'altro. Europea. Ma. Dal. Dall'Unione Sovietica. Per amicizia. Insomma. Con. Anche la dedica. Soldato. Bujanov. C'era un orso. Che. Tra l'altro. L'unico animale. Che non è stato trasferito. Ma gli hanno fatto proprio la. L'eutanasia. Che hanno fatto. L'orso. Quello ho saputo. Mentre gli altri animali. L'hanno trasferiti in altri zoo. Ecco. Questa è andata. Purtroppo è andata così. Triste. Triste. Vedere questo. È rimasto il sentiero. Zero. Zero. È rimasto. modo da andare in bici. Tutta la zona. E poi. Intanto si ricollega a altre strade. C'è tutto il sentiero. Zero. Zero. Che poi anche arriva. C'è dall'altra parte. Tutto il crinale. Io sono sul crinale. Mi fa un freddo tremendo. Ora mi sto rivestendo. E si rivede un bel bosco qua. Vedete. Un bel bosco. Ci sono. Certamente. Querce. Ma anche. Pini. Guardate. Di grosse dimensioni. Ma lei. Ma che pinolo è questo. E poi i castagni. Castagni. Dimensioni cospicue. E in questo pari. Bellissimo. Solo che qui. È molto cercato. Perché siamo vicini alla strada. Ove passano i cipini. Ecco. È un po' lontano da tutto. No qua. Però poi c'è la strada. Quindi. Ci arrivano qua. Capite. Io voglio vedere. Più che altro. Se ci sono dei segnali. Per capire. Dove entrare. E poi. Andare a fondare un po'. Dove. Arrivano meno fungaioli. Nei pari. È chiaro. Che ci vanno. Più facilmente. Anche se qui. Con la macchina normale. Secondo me. È un WC Venite. È un WC Venite. Mi sono un po' cuccato. L'audio sarà così così. Però vi dovete accontentare. Non vedo. Particolari segnali. Che è questo? Mi sarà un porcino. Un porcino. No. Non è un porcino. No. Proprio no. Proprio no. Anche perché sotto il pino. Il porcino è difficile. Più facile trovare. Pinarellino. Su videos granulatus. Più facile. E come vedete. Ricomincia a piovere. In pretterrito. Anche se c'è il sole dall'altra parte. Si stanchi dentro il cielo. Io continuo a filare il mio giro. In qualche maniera. Ormai un'oretta resisto. Mi ribagnerò un'altra volta. Solo che il cambio l'ho già usato. Ecco. Questo è l'unico problema che ho. Non ho previsto due piogge. Quota 750 metri. Non è che sto sull'Everest. Anche se mi vedete così. 750 metri però vedo che i funghi spariscono. Quindi bisogna scendere. Scendere ancora. Scenderò di quota. Che devo fare? Credevo che qua non fosse tanto alto. Invece i castagni 750 metri. Sono peggio di quelli al 300-400 metri. Beh. La situazione è questa. Ci avrei ancora tempo. Il problema è che il tempo non è buono. Pioggia, nebbia. E guardate qua però lungo la strada. Uscito dal castagneto. Dove non c'era nulla. Solo qualche fungo. Che sembrava di buttate recentissime. Ecco. Questa vescia. Questa è una vescia. Questa vescia. Mi fa pensare che forse qui è presto. Quindi dobbiamo scendere assolutamente di quota. È stato freddo ragazzi. È stato freddo. Bisogna andare dove è stato meno freddo. E bisogna scendere di quota. Io le prossime volte andrò in luoghi molto bassi. Evidentemente. E poi. Quasi quasi l'aspetto su un monte albano. Tanto dove andrà. Dove andare sui monti a 2000 metri. Non tu trovi nulla no. E poi quei pochi fungoiali che ci sono. Sono incivili eppure ignoranti. Perché. Questo fungo qua. Che è stato sciupato in questo caso. Staccato in questo caso. Spostato in quest'altro caso. È un fungo che ha un minimo di valore. Se non sbaglio. L'hanno tagliato anche col coltello. Vedete. Questo è un fungo che ha il suo perché. E vi invito a dirmi come si chiama. Perché questo fungo se non sbaglio. È un fungo di interesse. Ditemi voi come si chiama. E metto. In modo che si veda meglio. Così. Ma dalle indagini che ho effettuato. Sembra che sia stato lasciato qui. Quei funghi sono stati lasciati qui. Dopo essere stati messi in un cesto. Da persone ovviamente poco sveglie. Se l'hanno lasciato qui. Vorrebbe essere anche che hanno trovato qualcosa. Perché. Perché lasciare il fungo lì lungo la strada. Vuol dire che devono fare spazio magari. Fare spazio a cosa. Se non a dei forcini. Quindi forse è meglio guardare. Nonostante. Io. Ritenga che qua. Effettivamente. Non ci dovrebbe essere praticamente. Nulla. Nulla. Perché. Non ci dovrebbe essere nulla. Perché. Come è dimostrato dal fatto che ci sono le vesce. Quando ci sono le vesce. Di solito. È segno che è presto. È molto presto. Le vesce arrivano proprio dall'inizio. E quindi. Questo non è un buon segno. Dunque faccio un giretto. E vi faccio sapere. Ultimo tentativo alle conifere. Poi sono sulla strada asfaltata. Poi guarderò solo così. Per arrivare poi a Craviglia. Vi mostrerò Cavriglia di notte. Non sarà a Chicago di notte. Però sarà a Cavriglia di notte. Comunque c'è sto fascino. E invece no. Niente sui risgranulatus. Però c'è una bella lumacona. Vedete. Poi ho imparato. Che dobbiamo andare a quota zero. Quota zero. Dello splendido antico volgo di Craviglia. Non mi rimane che tentare. Allora il teletrasporto in pianura. Via. Che succede? Se ancora non è buio. Dovevo trasferirmi. Nella zona di. Torre. O a Galleno. Insomma posto lì. Invece mi trovo qua. Dove c'è una torre. Ancora. Di raffreddamento. Vedete. Andiamo. Riproviamo. Vai. Stavolta il teletrasporto riesce. Via. Eccomi. Eccomi. Sì. Sono arrivato almeno a Torre di Massarella. Andiamo a vedere. Rapidamente. La situazione per capire. Come butta. Questa zona ve l'ho mostrato tante volte. Si chiama via di rimedio. Andate a vedere i vecchi video. Se non lo conoscete. E io stavolta vado proprio a colpo sicuro. Colpo sicuro. Vado lì. E trovo. Anche perché ora ci avrei andare. Dal maestro di potatura. In giornata. A dargli una mano. A spolonare gli olivi. E a parlare. Come avete chiesto. Se parlerà. Vediamo. Uscirò il video a breve. Se parlerà. Eh. Della pre. Raccolta di olive. Che è un momento fondamentale. Delle avversità. Di tutto ciò che riguarda gli olivi. Ovviamente. Temporariste. Corso di potatura. Lo troverete. Anche se non sarà una gran potatura. Sarà più che altro. Un punto della situazione. Eh. Che faremo. Guardate qua. Gli olivi in Toscana. Io sono stato in tanti posti. Sono pieni dappertutto. O comunque sono olivi pieni. Che si spezzano. Guardate qua. Guardate la roba. Bellissimo. Speriamo di riuscire a cogliere tutte. Eh. Io sto da solo. Il maestro ha un aiuto limitato. Quando ho finito le mie. Vado a maestro. E vediamo se ci si rifà. A cogliere tutte quest'anno. Perché sarà difficile. Allora. Voi dovete sapere una cosa. Io. Ho perso i punti GPS. In tutta questa zona qua. Perché erano stati messi di recente. Non c'avevo il backup. Il doppione. E. Purtroppo l'app che uso. Osm e Maps. C'ha questo problema. Che non mi era loggato. E se non ti loggi. Rischi di perdere i dati. L'ho persi tutte. Però me le ricordo a memoria. Per fortuna. Ora vado a vedere. Se. Si ribeccano le fungaie. A meno. Andare. Precisi. Però ho visto qualcosa là. Di interessante. Sapete la bici. È quella che trova le fungaie. Poggio la bici. Esce il fungo. Ma ho visto della roba. Che se è quello che spero io ragazzi. Qui. Non c'è stato neanche bisogno di entrare nel bosco. Ho appena entrato. Tanto lì ce n'è uno marcio. Sono pochini questi. No. Non è possibile. Cioè. Ora io. Quando salivo qua. Ma avete visto cosa ho trovato. Quando salivo qua. Io ho fatto una cosa. Molto semplice. Ho detto. Dall'8 settembre è piovuto. È stato sempre freddo. Non è mai venuto caldo. Quindi. Se devo aspettarmi dei funghi. Non me lo aspetto tanto ogni folto. Ma me lo aspetto qua. Dove c'è. Era dura. Tagliato. Maremma. Ce n'è un altro qua. Maremma ragazzi. Il problema è che. Sai qual è? Che non c'è venuto nessuno. Cioè il problema. La fortuna. Non c'è venuto nessuno qua. Non c'è venuto nessuno qua. Non c'è venuto nessuno. Perché qui è tappezzato ragazzi. Tappezzato dei porcini. Quindi ho fatto chilometri e chilometri. Sono andato laggiù. Cavriglia. E poi mi trovo qua. Dietro casa. Insomma. A 15 chilometri da casa. Parati di porcini. Va bene. Ne tolgo un po' per farvi vedere. Il resto lo metto a cosa puntata. Abbiate pazienza. Non so mica. Solo per vedere che sono porcini. Sono porcini. Ora i gambi sono così così. Non è che sia. Il mio porcino in mondo. Però capite che ci siamo. Capite che. Ufficialmente. Sono. Partiti. Sono partiti. Sono partiti. Capite? Sono partiti i porcini. E ora. Vi sono fatti vedere quattro. La raccolta vi faccio vedere nel prossimo video. Faccio pausa qualche giorno. Faccio altre avventure. Faccio tutta una serie di. Altre. Esplorazioni. Ma vengo in zona ovviamente. E farò vedere in quinta lata dei porcini. Però questa è la prossima puntata. Perché oggi sono un po' di fretta. Ci ritorno. Intanto racconto questi. E davvero. Oh. Sono partiti. Sono partiti. E avete capito dove? Non vi dico altro. Non vi dico nient'altro. Va bene? Vi lascio però in coda. Per rispetto a mio figlio. Che se no si arrabbia. L'esplorazione l'ho fatta in quella chiesetta. In una zona bellissima. Vicino a Volpaia. C'è una chiesetta. Nel bosco. E quella merita una visita. Abbiamo visto anche qualcosina dentro. Dalle zanzariere. Abbiamo visto dentro. Cosa c'è di mistico dentro la chiesetta. E le metto in finale. In coda a questo video. Come promesso. E col porcino vi saluto. Arrivederci. Soddisfazioni. Soddisfazioni. E come sempre vi mostro la cattedrale di Panzano in Chianti. La cisterna è la splendida cattedrale di Volpaia. Ulivi con potature discutibili. Sono diventati dei greppi. Se li potate e poi li lasciate sta. Diventano così. E qui con mio figlio. Raggiungo la cappellina della Madonna del Fossato di Volpaia. E' un percorso molto bello. Tra castagni. Vedete. Di grandi dimensioni anche. Bosco. Meraviglioso. Siamo a altitudine. Intorno ai 600 metri. E davvero qui ci si può divertire. Sbizzarrire. Apprezzare questo territorio. Che non è soltanto viti per fortuna. E ulivi. Ma ci sono anche bei boschi. E mio figlio mi faceva notare come siamo. Uno degli innumerevoli sentieri del Montalbano. Sembrerebbe. Guardate siamo a Volpaia. Siamo nel Chianti. Ha visto subito un funghetto. Il mio piccolo fungaiolo ha visto il funghetto. Esatto. Bravo. E mio figlio ha notato anche questo splendido animale. Splendido scarafaggio. Che si ferma. Vedete. Quando si sente osservato. E gli si finge morto. Per poi piano piano ripartire. Se vede che non c'è più nessuna minaccia. E ha imparato a conoscere gli umani a quanto pare. Gli umani. E le loro follie. Gli esseri che si credono di poter dominare. Ogni parte del mondo conosciuto. Invece lui se ne frega. E ora. Se ne va. Per la sua strada. E non c'è dubbio che questo sassoso ma pulito sotto castagneto. Può essere interessante per un'avventura fungaiola. Per un giro nei boschi. Poi ci sono anche pini. Vedete. Abeti. Castagni. E certamente. Se qui è il momento giusto. Qualcosa si vedeva. Invece sembra di vedere. Sono funghi. Che danno. Che dell'inizio. Ma non di piogge. Che sono state quelle precedenti. Il famoso 9-10 settembre. E mio figlio non ha visto questa splendida russola. Che dato ce n'è un'altra più sotto. Ecco domanda di mio figlio. E' nata prima la pietra. E' stata appoggiata prima la pietra. Poi ci è stato messo il. Vedete. Il pino. Questa dovrebbe essere una domanda a cui è difficile rispondere. Però si possono fare delle ipotesi. Vedendo questo incavo. Finalmente. Individuando la lecceta. Che avevamo visto nelle foto. Dobbiamo essere finalmente a questa. Cappella. Santuario. Piccolo. Santuario. Nel bosco. Ed ecco finalmente riusciamo a intraverso. Vedere in lontananza. Questa splendida cappellina. C'ha anche una salita. E l'altra pietra. Vedete simile a quella là. L'altra pietra splendida. Quindi abbiamo di fronte qualcosa di molto bello. Molto antico. Ora. Ci sono delle rifaciture più moderne. Rifascimenti moderni certamente. Però. Un luogo di grande energia spirituale. Perché le chiesette nei boschi. Ve lo dico. Sono sempre belle. Soprattutto se hanno davanti una scalinata di questo livello. E guardate questi muri a secco. Ciclopici. Qui è facile fare un'ipotesi. Probabilmente erano mura antichissime. Queste. E poi col tempo ci hanno messo sopra quest'altre. Perché erano cadute probabilmente. Con gli anni. I secoli. I millenni. Addirittura. E le hanno ritrovate più piccole. Non riuscivano più. A avere probabilmente la tecnologia di spostare queste grandi. Di metterle così precise. Anche se io immagino ci possa essere addirittura qualcosa. No. Proprio terra. Terra. Terra tra un muro e l'altro. E via. E le riuscivano a fare. E poi dopo sono diventati più scarsi. Tipo me quando faccio i muretti. E sono arrivato a questo livello qua. Questo è il mio livello di fascitore di muretti. Rifascitore. Il mio figlio vuole ascendere via di me al luogo di grande potenza spirituale. E vuole vedere insomma anche l'ingresso curato con questi. Come si chiamano questi? Questi pinnacoli. Però è chiusa. Peccato. Si vede? Mi dice si vede? No. C'è la zanzariera. Sento proprio la frescura che arriva da dentro. E' impressionante. E guardate appoggiando tra le camera la zanzariera. Riesce a farci vedere in maniera un po' sfocata. Vedete? Guardate qui si vede la zanzariera. Queste sedie che sono poi davanti a questo luogo di incredibile spirito. C'è quella luce che arriva da dietro che è eccezionale. E se vedi a essere di fronte a un frigorifero. Dalla finestra dove siamo. Il frigorifero arriva con il suo fresco. Impressionante. La temperatura bassissima che c'è dentro. Questa cappellina meravigliosa. E questa è la vista incredibile. A occhio non riusciamo a fare. Ma appoggiando vedete la telecamera. La zanzariera. Guardate l'effetto. E' come se entrassimo dentro. Senza entrare. Guardate. E' un effetto spettacolare. Del luogo di incredibile spiritualità. Dove però l'uomo sembra essere. Non più tanto presente. Iscriviti al canale YouTube. Chiocciola l'eremita. E' gratis. E' attiva la campanellina. Per non perdere nessun video. E' attiva la campanellina. Grazie.